Forse sto impazzendo. La mattina mi sveglio e bevo acqua e sale, poi faccio delle posizioni strane e infine consumo tanta carta igienica. Allora, non sto impazzendo, almeno spero. Adesso ti spiego subito a cosa mi servono tutte queste cose, perché le ho fatte. Innanzitutto mi presento, se non mi conosci, mi chiamo Alessandro Greco, sono un naturopata e queste cose che hai appena visto mi sono servite per fare una pulizia intestinale. Allora, la pulizia intestinale ovviamente serve alla salute dell'intestino. Diciamo che è una cosa che andrebbe fatta almeno una volta all'anno per una persona che non ha problemi a livello intestinale. Se invece ci sono delle problematiche, allora si può pensare di farla due, anche tre volte durante l'anno. Però, una cosa da ricordare è che questa pulizia intestinale si fa a digiuno. Per ottenere i massimi benefici bisogna fare un digiuno medio, io lo chiamo medio, ovvero di 36 ore. Che ovvero comprende non mangiare per tutto il giorno della pulizia intestinale e riprendere il giorno dopo. Praticamente dalla sera del giorno prima alla mattina del giorno dopo non si mangia. Più o meno sono 36 ore. Allora, partiamo dal fatto che anche il digiuno fa bene l'intestino, lo disinfiamma, lo disintossica. Questa è una pratica che andrebbe fatta anche questa con regolarità. A meno che non ci siano malattie pregresse, il digiuno va bene un po' per tutti e si può fare in autonomia un digiuno così breve. Questo ve lo dico perché magari c'è gente che si è spaventata da fare anche un digiuno di 24-36 ore. In realtà è una cosa veramente sostenibile, è più un fattore mentale. E ripeto, se non ci sono patologie in corso che allora bisogna farsi seguire, si può fare in autonomia. Detto questo, passiamo alla pulizia intestinale. Come avete visto, ho bevuto acqua e sale. Perché questo? Perché bevendo un'acqua con una concentrazione salina elevata, non permette all'intestino praticamente di assorbire quest'acqua. E quindi quest'acqua scorre nell'intestino e alla fine viene espulsa. E quando passa ovviamente dal retto, porta via tutto quello che è rimasto lì. Quindi parliamo di feci solide, se non le avete fatte prima di iniziare a bere. E fino a feci meno solide, fino a buttare fuori il liquido, che è un liquido ovviamente magari un po' sporco, ma che sta pulendo l'intestino. È una pratica che anche questa potrebbe un attimino spaventare, ma è molto semplice. Si può fare anche questa a casa, da soli, magari essere seguiti, è sempre meglio la prima volta. Sì, da una persona che magari conosce questo tipo di pratiche. Che è una pratica che deriva dalla medicina del Medio Oriente, adesso non so bene imparare indiana. Comunque ha un nome specifico che non mi ricordo e non so pronunciare, ma ve lo lascio qui. Detto questo, questa pratica successivamente a questa pulizia, che può richiedere un paio d'ore, due, tre ore, una mattinata massimo, in cui dovete veramente stare a casa, perché voi nel vostro bagno sarete veramente molto intimi in quella mattina. Detto questo, poi durante la giornata potete fare tranquillamente qualsiasi altra cosa. L'importante è magari mantenere anche il digiuno, perché continua comunque la depurazione del vostro corpo. Bevete tanto. Ecco, una cosa che è importante, magari appena mi svegliate e dovete fare questa pratica, bevete un po' d'acqua e dopo un po' iniziate a bere acqua e sale. Questo perché l'acqua e sale che bevete durante la mattinata non vi idrata, non l'assorbite, pochissima almeno, e di conseguenza per evitare una disidratazione bevete un po' di acqua prima, basta anche un bicchiere. E poi iniziate a bere dopo la pratica, dopo anche questo, dopo una mezz'ora, un'ora, finita la pratica, potete iniziare a bere e bevete molto durante tutta la giornata. Perché anche durante la giornata il corpo comincia, siete anche in digiuno, vi ricordo, quindi il corpo comincia a disintossicarsi, lavora tanto il fegato, i reni, e hanno bisogno di acqua per riuscire a rendere idrosolubili le tossine ed espellerle con facilità, senza essere affaticati da questo lavoro. Quindi la pratica in sé è molto semplice. Poi, ah no, cosa che avete visto all'inizio, mi stavo dimenticando, le posizioni strane. Allora, nella pratica famosa, quella indiana, almeno dovrebbe essere così, che vi dicevo prima, è prevista una serie di posizioni yoga in cui si va praticamente a mobilitare l'acqua nell'intestino, a muovere un po' l'intestino, in certi punti anche un po' a comprimerlo. Questo aiuta tanto l'evacuazione. Se poi non volete farlo yoga, anche se vi andate a pulire la casa, fate un po' di giardinaggio, vi fate la camminata, se fortunatamente non potete farvela perché avete bisogno di avere il bagno vicino. Quindi le posizioni yoga, un qualcosa del genere, può essere molto utile, anche pilates e queste cose qua. Però la pratica che vi dicevo prima include proprio delle posizioni che vanno proprio a agire sull'intestino, quindi sono proprio ottimali. Detto questo, gli ultimi consigli che vi posso dare su questa pratica sono quelli magari per la colazione il giorno dopo. Ho mangiato questo, adesso vi faccio vedere. Ecco qui. È un shaker di proteine, una mela e un caffè. Allora, il caffè non è utile, cioè potete berlo o no, non cambia niente. Vabbè, io l'ho bevuto perché avevo bisogno di un po' di carica. Ma le proteine in polvere sono utili perché sono proteine facilmente digeribili e saziano. E quindi non affatichiamo l'intestino con cose perché se iniziate a mangiare uova, formaggi o pesce, se siete abituati a colazioni salate ovviamente, il vostro intestino potrebbe metterci un pochettino, quindi iniziate con cose più soft. Tra cui c'è anche la frutta, ovviamente, quindi a posto di mangiarvi pane e marmellata, se è quella la vostra colazione che, lasciatemi dire, non è il massimo, però se mangiate quello, biscotti e quant'altro, lasciate perdere per la prima colazione dopo, un po' di frutta, va benissimo, vi dà gli zuccheri di cui avete bisogno e il vostro intestino vi ringrazierà. Concludo dicendomi che veramente, ci tengo ad assottolineare, che questa è una pratica che all'inizio possono spaventare, sia per la pratica, sia per il digiuno, ma in realtà si può fare tutto e in autonomia si può fare, anche molto durante il giorno, dopo, il pomeriggio, la sera, potete fare quello che volete, potete uscire, se avete commissioni da fare, anche se dovete lavorare, non c'è nessun problema, non vi sentite ancora affaticati, come può succedere dopo un digiuno di due o tre giorni, potete gestire veramente la vostra vita, magari evitate sforzi pesanti, a livello fisico, quello sì, è l'unica cosa, però per il resto potete muovermi tranquillamente in autonomia e fare quello che volete. Io penso di avervi detto tutto, poi se avete qualche domanda più specifica, qualche dubbio, scrivetemi pure qui sotto nei commenti, io vi rispondo molto volentieri. Ne approfitto poi per ricordarvi che se siete interessati a questo tipo di pratiche e volete essere seguiti bene, nel mio percorso Naturopatia di precisione, dove tra le altre cose seguo il sonno, l'alimentazione, l'esercizio fisico, la gestione dello stress, anche le pratiche di digiuno e pulizia intestinale, ovviamente adattate a persona a persona, sono previste. Se siete curiosi, vi lascio il link in descrizione dove ci sono tutte le informazioni del caso. Io con questo ho concluso, vi ricordo infine di seguirmi se vi interessano questi argomenti su come vivere una vita più sana e naturale. Vi saluto, ciao e a presto.